Ciao a tutti amici di Sweet Omanesa, mi sto preparando per una nuova avventura Ho già preparato qui 6 coperte da buttare e domani me ne vado al canile dell'Osaia Nuova avventura Non sono delle coperte brutte o sporche sono tutte pulite e lavate ma sono delle coperte che voglio donare al canile dell'Osaia per quei poveri animaletti abbandonati e in più ho preso alcune scatolette e ora domani però siccome ne ho prese poche voglio tornare a prenderne altre e poi porto tutto la stiamo andando al canile qui c'è il mio vicino di casa che non di trovare la fintura e la Simona andiamo abbiamo preso anche le crocchette Grazie 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 Allora siamo al canile dell'ossaia e la mia amica viene assalita da un cane Sono tutti bravissimi, guarda, fatti prendere, oddio ma quanti c'è carino, sono fantastici, io sono pulitissimi e coccoloni Abbiamo un cagnolino un po' tremendo Allora qui ci sono dei cani portati da i sanitari, come dicono, e poi vengono addirittura rinunciate le proprietà del cane Perché magari mordono o sono troppo grandi, quindi questi poveri cani vengono abbandonati così Io mi sono innamorata di questo, oddio ma com'è, guardalo, guardalo, guardalo Eh lo so che anche tu ti sei innamorato di me, mi ritocca lavare tutto il giubbotto, vedi, oddio ma com'è Ah ciao, ma questo è bello, oddio che cagnolone Eh sì Ci vuole un congelatore giusto per lui di roba Madonna che belli Carol Amore Allora io e Stefania vi ringraziamo e venite ad adottare qualche cucciolotto vero? Ah il canile di Osaia Il canile di Osaia Ho preso anche il numero di telefono e dopo lo rimetterò E un bacio a tutti i cagnolini Ciao Grazie, ciao Grazie a te 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 Grazie a te